Il caso Thomas Crawford è una pellicola del 2007 diretta da Gregory Hoblitt con protagonisti Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Le recensioni di questo thriller sono molto positive e la critica ha apprezzato sia lo stile introspettivo del regista che l'interpretazione degli attori. Per la produzione del film il budget a disposizione era abbastanza contenuto, 10 milioni di dollari, mentre ai botteghini di tutto il mondo la pellicola ne ha incassati oltre 90. Se non si possono esibire prove in tribunale il caso non sussiste legalmente. Io non mi metterò a giocare con lei. La produzione permise al regista e agli sceneggiatori di suggerire modifiche al copione e anche di riscriverne alcune parti. Spesso quindi al termine della giornata gli sceneggiatori si riunivano insieme a Gregory Hoblitt e anche a Ryan Gosling così per discutere del lavoro dei giorni successivi. Mancava solamente Anthony Hopkins che non era presente sia perché si fidava del lavoro degli altri, ma anche sia perché, diciamocelo, non aveva proprio voglia. A tutto quello che le occorre, Willy, vorrebbe un caffè? No, grazie. Anthony Hopkins trascorreva molto tempo nel suo camerino a mangiare dolci e dipingere. Ai giornalisti che gli chiedevano come si fosse preparato per la parte, lui rispondeva semplicemente facendo quello che so fare, ovvero imparare le battute a memoria e presentarmi sul set. Una frase che non piacque molto alla moglie dell'attore perché secondo lei, come dire, sminuiva la sua professionalità. Sto solo cercando di descrivere i miei sentimenti. Dal tono non sono sentimenti. A Ryan Gosling fu consegnata la sceneggiatura di questo film mentre stava vivendo in una tenda. Aveva deciso di isolarsi dal mondo. La lesse, gli piacque e decise di partecipare al progetto. Per prepararsi per il ruolo non frequentò studi legali o tribunali, ma preferì trascorrere del tempo insieme a dei suoi amici che lavoravano in ambiti simili a quelli del suo personaggio. Per Ryan Gosling fu meraviglioso lavorare con un suo mito come Anthony Hopkins, un grande professionista stimolante e intimidatorio allo stesso tempo. I due spesso chiacchieravano del più e del meno, ma Hopkins lo faceva disegnando qualcosa su un pezzo di carta, senza nemmeno guardare il suo interlocutore. Anthony poi poteva capitare che si presentasse alle riprese con le mani ancora sporche di colore perché aveva appena dipinto qualcosa nel suo camerino. Lei è fuori di testa? Credo che sul consiglio del mio avvocato rifiuterò di rispondere. Le riprese di questo film si sono svolte nel 2006, prevalentemente nella metropoli di Los Angeles, in California. Se guardando questa pellicola provate un senso di déjà vu, allora dovete sapere che la casa di Thomas Crawford è stata utilizzata anche come abitazione di Nina nella serie tv Scream del 2015, ma non è finita qui. La casa di Willie Beecham infatti si trova al 3101 di Minnesota Street, a Los Angeles, dove dall'altra parte della strada, al civico 3104, c'è la casa di Mick Haller, personaggio interpretato da Matthew McConaughey nel film The Lincoln Lawyer. Nella versione originale il nome del protagonista è Theodore Crawford, solo in Italia si chiama Thomas. In tutto il mondo poi la pellicola ha il titolo un po' come in America, Fracture, Frattura o Crepa. Mentre qui il caso Thomas Crawford. Alcuni sostengono che faccia riferimento a un film del 1968, il caso Thomas Crown, però le due pellicole non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. Il popolo dello stato della California contro Thomas Crawford. Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che spesso nel film vediamo delle sfere correre su dei percorsi metallici. Ecco, quelle sono delle opere realizzate dall'artista olandese Mark Bischoff, un esperto di arte cinetica. L'arte cinetica è una forma d'arte che non si basa sulla staticità di un'opera, ma impiega il movimento come mezzo di espressione. Inoltre nel film possiamo vedere qualche piccolo easter egg. Quando Willy si trova nel suo ufficio, ad esempio, alle sue spalle ci sono dei pacchi con dei nomi. Qui c'è scritto Il popolo contro Morgenthal. Cramer Morgenthal era il direttore della fotografia di questa pellicola, mentre qui c'è Il popolo contro Bonaventura, ovvero il proprietario dello stabile che ospitava le riprese. Ma non è finita, perché alle spalle di Anthony Hopkins in tribunale ci sono i cognomi Eats e Vaccaro, ovvero quelli degli scenografi che hanno lavorato a questo film. Infine, nella scena del giorno del ringraziamento, gli attori sono tutti molto composti, ma durante le riprese il cast si divertì a far finta che fosse come il vero giorno della festa. Per l'occasione la produzione aveva fatto cucinare 5 tacchini enormi e 7 teglie di verdure e si era sparso un buonissimo profumo su tutto il set. Ad ogni chuck, cast e troupe stuzzicavano qualcosina e al termine della giornata era stato praticamente spazzolato via tutto quanto. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come il caso Thomas Crawford. Lo sai che è lui ed è lì il giorno in cui le ha sparato. Non c'è nessun dubbio, quello è lui.